Benvenuti cari amici sul canale poetico Savino Tesse. Ho creato oggi una nuova poesia dal titolo Bullismo. Spero che dopo la condividirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. E se non siete ancora iscritti al mio canale YouTube, digitate Savino Tesse e attivate la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia perché a volte mi dà fastidio sentire che un branco di poverà ci danno fastidio ad un ragazzino che viene provocato dai loro versaci rendendolo triste solo. Quindi, visto che è un fenomeno molto diffuso e loro si divertono allegramente facendolo piangere e a me dispiace, lui a volte rimane solo lacrimante e prega affinché tutto si ristabilisca e quelle persone comprendano che non bisogna fare quell'errore verso di lui. A volte mi chiedo, mi domando e dico, dico, chi siete voi per provocare questo povero ragazzino che vorrebbe quietamente vivere, magari è indifeso, solo, abbandonato, magari vorrebbe cercare degli amici, invece deve subire il bullismo delle persone che, tra virgolette, lo sfottano, lo razziano, lo mettono da parte per dei suoi difettucci che a volte sono gli stessi difetti che abbiamo tutti. Vi leggo appunto la poesia dal titolo Bullismo. Un branco di poveracci danno fastidio ad un ragazzino lo provocano coi versacci rendendolo triste e solo. Si divertono allegramente facendolo piangere poverino e lui solo e lacrimante prega al dio uno e trino. Ma chi siete voi per provocare un povero ragazzino che vorrebbe quietamente vivere lontano dal vostro odio? Ma perché non cercate di vivere una vita saggia? Ma perché vagate tra la gente in attesa di una guerra? Cercate di cambiare atteggiamento e il mondo sarà migliore. Ogni vostro comportamento sia invece carico di vero amore. Grazie.